Ciao a tutti! Oggi prepareremo i funghi trifolati. Il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti circa. Ingredienti sono funghi freschi tagliati a fettine, olio evo, aglio, sale, pepe e prezzemolo tritato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio e l'olio ed azionare il bimbi per 4 minuti 120 gradi velocità 1. Posizionare la farfalla sulle lame, aggiungere i funghi, il sale, il pepe nero ed azionare il bimbi per 15 minuti 100 gradi anti-orario, velocità 1. Aggiungere il prezzemolo ed azionare il bimbi per 30 secondi, anti-orario, velocità 1. i funghi sono cotti, impiattare e servire. Funghi trifolati! Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!